E alla Fiera degli Sposi di Monte Catini Terme 2015 oggi siamo insieme con Gloria, delle Spose di Romagnolo, un'attività ad Empoli che esiste da più di 50 anni, quindi molto radicata nel suo territorio, che offre abiti da sposa meravigliosi nell'atelier Sposa in via Carrucci 40 ad Empoli. Allora Gloria, intanto grazie, molto piacere averti qua con noi. Cosa ci puoi dire dell'atelier? Che abiti vanno di moda quest'anno? Più che gli abiti possano andare di moda posso dirti che la nostra titolare, la signora Romagnoli, riesce ad accontentare tutte le tipologie di clienti, quindi dalla sposa più estrosa alla più classica, quindi abbiamo molti marchi, siamo anche Sartoria e riusciamo ad accontentare tutti, sia nella qualità che nel prezzo. Bene, è importante ovviamente poter soddisfare ogni tipo di esigenza per i clienti. Allora Gloria vi aspetta nell'atelier Sposa in via Carrucci 40 ad Empoli, qui Monte Catini Terme. Alla Fiera degli Sposi Monte Catini Terme 2015 abbiamo anche lo stand delle Spose di Romagnoli, una boutique storica che ad Empoli ha addirittura tre negozi dove potete trovare abiti da sposa e da sposo bellissimi. Troverete sicuramente Laura che vi accoglierà con tutte le sue creazioni, qui con noi c'è Federica e ovviamente vi accoglierà anche lei per mostrarvi tutti gli abiti che hanno all'interno delle loro boutique che vi ricordo sono in via Carrucci 40 ad Empoli, in via del Papa sempre ad Empoli e in via Tripoli ad Empoli. Allora ringraziamo le Spose di Romagnoli, una boutique storica, anche loro presenti alla Fiera di Monte Catini 2015.